E' inquietante perché c'è due schemi, uno dove mi vedo, si può dire, proprio light, ovviamente invece qua è 5 secondi indietro, va bene, allora, iniziamo già condividendo, no, ho sbagliato la foto, devo mettere una thumbnail diversa, ecco, allora, devo mettere una thumbnail diversa, mi sono dimenticato, siamo ancora rimasti quella là in cui Tossiga sta là a mangiare il McDonald's, mettiamo Antonio Razzi, una qualsiasi foto di Antonio Razzi, possibilmente, ciao Adam, una foto brutta, una foto brutta, siamo brutta, ecco qui, ah, siamo già 5 persone che mi cagano il cazzo, bellissimo, Allora, eccola qua la thumbnail, la mettiamo qui, bellissima la foto di Razzi, questa è la hi-fi, saluto, saluti, non saluto, non esistono foto brutta di Razzi, Questo è vero, questo è vero, ah, ecco l'altra cosa che volevo fare, link lo metto sul Discord, mi raccomando ragazzi, se non siete iscritti al Discord, datevi un calcio nelle palle da soli, perché è bellissimo, dunque lo metto in announcements, anzi no, lo metto in Italian Speaking, e scrivo, e scrivo, everyone, sono live stronzi, ecco qua, qui è nel, ah, c'è anche bellissima la foto, allora, 4 persone, in effetti potevo anche condividere lo schermo, con tutte le foto di Razzi, non ci ho pensato, però, sapete com'è, è che, questa live si basa sul leggere questo libro bellissimo, quindi, eh, distoglierei l'attenzione, priorità ragazzi, priorità, dov'è il bird? Non mi ricordo il nome, allora, il bird, eh, si chiama Alcidiade, e sta in gabbia, si sta facendo i cazzi suoi, non vuole essere coinvolto, si sta dissociando dalla live, ehm, poi quando inizierà a cinguettare, lo tiro fuori, perché così si sta, si sta zitto, e, ve lo risoprono, va bene, aspettiamo ancora un po', sono live da 3 minuti, Alcidiade, si chiama Alcidiade perché è un grandissimo morto di sito, se conoscete il personaggio Alcidiade, personaggio, sì, personaggio storico, è una persona che ha esistito, facciamo che al quinto minuto, al minuto 5, cosa consisterà questa live? Semplicemente io leggo questo bellissimo libro, quasi tutto da un, sì, la Corea del Nord, ehm, ecco qua, questo è, questo è il titolo, ehm, questo è, sì, la Corea del Nord, è una cosa, se lo scrivo in inglese, perché dobbiamo rimanere coerenti, io questa live la voglio fare tutto in italiano, tanto per cambiare, però te lo posso scrivere in inglese, ehm, scrivere, oggi, ehm, buona a sapersi, buona a sapersi, questa cosa, ecco, questa ora dovrebbe essere tutta un'altra storia. ok oh però qua dice concorrent viewers 1 che è successo che siamo solo io e Adam e lui non mi capisce dai che prima ho visto c'era Doug, c'era Samuel e poi aspettiamo ancora un po' ah qua dice che siamo in 3 prossima la vi la insegna questo cazzo vabbè dai ragazzi si stanno connettendo tutti gli inglesi gli italiani dove sono? a sto punto leggevo un libro in inglese c'ho un cazzo di libro in inglese allora no questo è tutto in italiano poi qua se dovreste vederli in realtà si 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 allora qui c'ho diversi libri perché dopo ogni capitolo farei tipo una pausa in cui dico ah si si sto libro è bello e direi una cosa là ciao ma caro spaghets in inglese cazzo sai che non lo so non credo di averli più ormai non leggo in inglese da un po' non me ne sono andato ancora e comunque mi dice che c'è solo uno spettatore pure a me dice che c'è solo uno spettatore ma di fatto qua c'è sta cesta grazie a tutti ma raga mi sentite raga scusate ah ok Adam capisco un po' l'italiano dovevo andare vicino allo spagnolo sono fiducioso non vedo l'ora di visitare sia la Spagna che l'Italia l'anno prossimo dagli sapete che io la Spagna non l'ho mai vista sono stato in Portogallo in Francia in Andorra ma la Spagna no non so perché ho trovato così incredibile a volte succede questo microfono non è mai successo prima live ma su Discord è successo un paio di volte che il microfono diventa autistico diventa spastico com'era Alessandro diceva spastico minchia è un casino lasciamo perdere io sono arrivato nessuno in Repubblica Ceca perfetto allora mi sono arrivato massimo in Repubblica Ceca ok audio con la trisomia 21 va bene allora ragazzi un po' di chiariamo questa cosa questo libro qua è estremamente trash che è molto diverso dalla parola inglese trash trash vuol dire che è disagiante che è tipo borderline cringe diciamo questo libro e lo si vede dalla prefazione che è l'unica cosa finora che ho letto sì Doug confermo holy cannoli allora prefazione Dougaxi prefazione quella che il senatore Antonio Razzi definisce saggezza abruzzese non è altro che la capacità di entrare nei cuori della gente ma non è tutto Razzi si è spinto oltre ha conquistato i cuori di un popolo che sembra tanto lontano per geografie e per abitudini il popolo della Corea del Nord è il gennaio è il gennaio del 2007 quando Antonio Razzi visita per la prima volta la Repubblica Popolare Democratica di Corea al governo italiano c'è Romano Prodi mentre le redini della Corea del Nord sono nelle mani di Kim Jong-il Razzi vi tornerà diverse volte rendendosi testimone dell'evoluzione politica nordcoreana che prende il via nel 2021 dal 2011 nel 2011 dal 2011 infatti alla guida del paese c'è Kim Jong-un terzo genito di Kim Jong-il con lui nonostante le difficoltà qualcosa si sta muovendo Razzi vede con i suoi occhi l'importante apertura di una nazione da sempre percepita dall'opinione pubblica come inaccessibile la vita la vede perché verifica sul posto è in prima persona vediamo un po' come sta andando dai Antonio ci sono aggiornamenti su Matteo Salvini rispondo dopo questo dopo la prefazione dopo dopo la prefazione sempre un pirla giusto Antonio Razzi la pace sia su di lui assolutamente assolutamente le sue sono missioni di pace che continuano anche dopo la fine dell'attività senatoriale nelle vesti di semplice cultore dell'armonia mondiale merda con la sua ironia e la sua semplicità il senatore Razzi è entrato nella grande famiglia nordcoreana conquistando nel popolo e perfino i vertici politici e non solo con la sua partecipazione alla quattordicesima edizione di Ballando con le stelle da concorrente ballerino fortemente voluto da Milly Carlucci è entrato nei cuori di tutti gli italiani e ovviamente anche nel mio che ho avuto l'onore di affiancarlo in questa bellissima avventura come maestra ballerina e grazie alle nostre coreografie di ballo sempre divertenti abbiamo regalato a tutta l'Italia un sabato sera leggero ricco di humor autoironia questi cerochi coreani pensi che Razzi abbia fatto del suo periodo come diplomatico cazzo c'entrano i cerochi che c'entrano mamma mia esatto c'è esatto è uno di noi già c'è stato è uno di noi nessuno occidentale forse ha avuto l'ardore di difendere a spada tratta l'operato di Kim Jong-un quanto ha fatto Antonio Razzi per questo il senatore abruzzese è amico della Repubblica Popolare Democratica di Corea che gli sarà sempre grata la speranza è ora che i valori che contraddistinguono la cultura nordcoreana abbraccino quelli dell'Italia e dell'intero occidente in uno slancio fraterno di cui Antonio Razzi manco a dirlo sarà ambasciatore onorario Ornerla Boccafoschi maestra di ballando con le stelle cap esatto ok Ornerla Boccafoschi è quella con cui Razzi ha ballato essenzialmente c'è anche un prologo comunque aggiornamenti su Matteo Salvini ne volevo parlare diverso tempo fa perché questa è una storia vecchia ma il suo social media manager un certo Morisi mi pare Luca Morisi Samuele aiutami col nome di battesimo perché non lo ricordo Luca Morisi praticamente era il suo social media manager che faceva tutti sti post di propaganda cattivissimi proprio eh e ok si Luca Morisi e praticamente lui si è scoperto che era gay ed era in possesso di cocaina dopo una sottospecie di festa a casa sua dove praticamente aveva chiamato insieme a quest'altro uomo due escort rumeni rumeni quindi uomini cioè insomma stava facendo un bunga bunga lgbt edition chi vincerebbe in una rissa di galli brasiliani Matteo Salvini o Antonio Razzi secondo me Razzi vince sempre l'hanno trovato con tanta droga dello stupro ah si giusto però in realtà ho sentito che la droga dello stupro se l'erano portate i ragazzi e lui aveva la cocaina poi vabbè comunque si è dimesso il ah si il popolo Roigbeev esatto anche Antonia è andata a Parigi Antonio secondo me si poi non lo so lui è andato a Pyongyang come cacca si pronuncia la capitale nordcoreana comunque queste le novità con Salvini da quando morì si è dimesso perché c'aveva gli escort maschi indirettamente facendo il coming out a gay si appunto si è dimesso e da lì ormai coso ah mi scrivono anche su discord che il mio microfono si sta esplodendo se ormai Salvini non ha più quel fascino su instagram ormai non più fa post tristi non fa più post di lui che mangia la nutella o che fa le live chi è l'attuale diplomatica italiano per gibuti e quante accuse di aggressione sessuale hanno allora quello sono io sono io sono io l'ambasciatore di gibuti per l'italia e ho molte accuse di molesti moltissime ma proprio a livelli esagerati ho battuto ogni record sto proprio nel guinness world record sto proprio là la live con le ciliegie esattamente dai andiamo avanti prologo qua proprio siamo siamo qua cioè è proprio il prologo però secondo me qua l'ha scritto Antonio Razzi o almeno il suo ghostwriter poi dopo il prologo leggiamo il capitolo 1 e poi facciamo tipo la pa oh sono altre pagine sono su 7 capitolo 1 e poi guardiamo tipo un libro che caldo mamma mia non si respira in Italia adesso sta iniziando a placarsi soprattutto nelle mie montagne d'Abruzzo e non parliamo poi dell'amata svizzera già bisogna uscire con la giacca la sera di questi tempi qua no è il 9 settembre 2018 e si crepa mi trovo in uno stadio enorme dicono sia il più grande del mondo e infatti è sterminato per guardarlo in tutta la sua ampiezza mi devo girare completamente è grandissimo è pieno di persone sarà pure per questo che non si respira eppure col passare delle ore e l'inizio della sera quest'affa insostenibile non vuole diminuire ha un clima assurdo la Corea del Nord l'inverno l'inverno si gela la temperatura a volte scende sotto i meno 20 d'estate si muore e qui al Rungrado May Day Stadium alla lettera primo maggio in nome della festa dei lavoratori oggi non c'è un filo d'aria io sto qui tutto ingessato nel mio vestito buono e sudo sono contento di esserci sia chiaro come ogni volta che vengo mi hanno fatto un'accoglienza da re sin da quando ho preso l'aereo non ho dovuto neanche aprire bocca per avere il meglio auto di russo albergo prestigioso comitati di benvenute e cene sontuose tutti affettuosissimi con me e felici di avermi alla parata è iniziata da un bel po' ma se conosco le loro usanze durerà a lungo e io non credo che arriverò fino alla fine merda sta morendo pensi che la Corea abbia sviluppato una propria versione dei cannoli italiani il beato Kimmoli assolutamente sì no c'è il TM jumpa dico sottovoce al mio collaboratore Antonio mi fa lui quasi senza aprire bocca continuando a fissare la pista la corsa dove si stanno esibendo soldati e danzatori io sto morendo tu gli chiedo anche io ma che ci vuoi fare già che ci vuoi fare il 9 di settembre ricorre la festa dei 70 anni della creazione della Repubblica Popolare Democratica di Corea e ci sono le massime autorità le stesse che mi hanno invitato come ospite d'onore in quanto amico storico della nazione ci sono i vertici dell'esercito con cui intrattengo un bel rapporto c'è il primo ministro Pak Peng Yu poi il presidente del preside il presidente del presidium l'equivalente del presidente della Repubblica Kim Jong-nam uno dei primi che ho conosciuto un buon amico e poi c'è lui Kim il notissimo Kim Jong-un il capo di tutto se ne stanno lì a salutare la folla festante sicuro non guardano me ora e se me ne andassi faccio rivolto al mio amico eh? stavolta Gianpaolo si è girato piuttosto sorpreso ma sì mi invento una scusa e mi defilo un poco mica mica se ne accorgeranno Antonio riflettici Gianpaolo è tornato a guardare la parata e ha ripreso il suo classico aplomb sarebbe una scortesia lui ha ragione qui sono tutti piuttosto attenti a certe cose però io non lo sostengo più sto caldo e alla fine sono un ospite mica un ostaggio e poi io sono sempre stato un uomo libero mi sento libero di poter fare ciò che voglio perché sono sicuro di essere una brava persona basta ho deciso mi allontano me ne vado all'ombra scusi dico verso la responsabile della delegazione che è anche la nostra interprete senta devo allontanarmi per qualche minuto la donna è cerimoniosa come tutti sta passando la testa e sorridendo in segno di assenso di assenso poi alza il capo e spalanca gli occhi sempre con il bel sorriso spianato ho imparato a capire che ho un modo per dire che devo spiegare cosa cosa vado a fare ho un motivo un po' intimo le spiego lei continua a fissarmi ad occhi aperti mi sa che non ha capito sono necessità che non posso descrivere a una signora dico cercando di essere garbato niente sempre là in attesa di sapere vabbè forse ho parlato troppo complicato ah qua ci sta un francese di merda che mi dice parla francese voglio vedere una battaglia tra Kim Jong un Antonio Razza e Dennis Rothman dove sono in una piscina per bambini che si lanciano patate l'un l'altro ma là già esiste esiste da qualche parte su Pornhub oh urge di Mastro oh e si sa che il commento è bello quando Youtube me l'ha censurato per un attimo mi è apparso prima che dove diceva beh posso posso mostrarlo pensavi che Antonio Razza avesse regalato dei cannoli al regime di Kim Jong ma sicuro sicuramente l'ha fatto sicuramente ma signora bella devo andare al bagno toilet dico scandendo la parola lei scoppia a ridere produco spesso grandi risate nei nord coreani ma dopo comunque mi fa ampi gesti con la testa e indica inchinandosi di nuovo la direzione da seguire una volta mi avrebbero scortato fino alla porta del bagno da un po' di anni invece mi lasciano muovere come mi pare hanno imparato a conoscermi sanno che con me possono stare tranquilli e comunque da qualche tempo le cose sono molto cambiate in questo paese c'è più apertura più fiducia le città sembrano rifiorite ora sono arrivato sugli spalti esterni dove finalmente c'è un filo d'aria soprattutto non c'è tutta quella calca e posso osservarlo dall'altro questo paese da qua si vedono oltre la città le montagne e le foreste un panorama bello bellissimo come il paese che lo ospita che sta sbocciando e infatti un altro dettaglio che ho notato allontanandomi dalla tribuna mi sa che tra una scusa e l'altra tornerò verso la fine della manifestazione è l'assenza che è l'assenza di una cosa che prima non potevo non notare erano giganteschi lunghissimi e minacciosi e venivano fatti sfilare per primi oggi mancano ed è piuttosto rilevante dato che questa ricorrenza è l'appuntamento principale del decennio parlo dei missili non ci sono più insomma dalla parata principale della repubblica popolare democratica di corea sono spariti i razzi a parte me questo è carino questo ultimo passaggio le spiegazioni le spiegazioni di razzi all'interprete sta parlando di cazzo sta parlando di razzi sì sì questo è successo prima della morte di Kim Jong-il avvenuta dieci anni fa no sì 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 cazzo quanti capitoli sono allora dove vedo dieci dodici dovrebbero essere dolci epilogo no quattordici va bene il primo capitolo ma che è vot punto punto che è sta roba what the foie terimiella boh qualcuno clicchi se mi dica che cos'è se è un virus fatemi sapere ve lo beccate voi io di certo non lo clicco non ci capisco molto quindi lascio ma lascio comunque un like buona lettura grazie corentino the french kiwi dunque capitolo 1 la prima volta invece la prima volta che ci sono stato nell'inverno del 2007 faceva un freddo tremendo sono diversi anni che frequento questa terra sono ormai un conoscitore piuttosto profondo del luogo e testimone di cambiamenti scusa ci sta uno che interrompe alci zitto sto stronzo sono ormai un conoscitore piuttosto profondo del luogo e testimoni di cambiamenti storici avvenuti laggiù senza voler passare per uno sbruffone penso di essere tra gli occidentali uno di quelli che conosce meglio il nord corea pensate ci sono stato 13 volte come mai chi lo sa perché tanto lo so tutti si chiedono ma che ci fa i razzi in corea del nord si sono fatte battute sketch titoli di giornali su questa circostanza che sembra surreale un po' lo capisco è curioso che uno come me comune lavoratore e solo in tal età rappresentante degli italiani in parlamento noto per la sua semplicità e diciamolo pure per la sua stravaganza va e viene da uno degli stati più chiusi del pianeta stati più chiusi del pianeta un posto accessibile solo a pochi e dopo tra file lunghissime richieste in carta da bollo e indagini approfondite i più hanno trovato la cosa un po' buffa qualcuno ci ha pure malignato chissà che combina il senatore in nord corea ma in fondo la risposta è semplice è stato merito di una risata solo quando una zanzara atterra sui testicoli imparano davvero che la violenza non è sempre la risposta Matteo Salvini esatto l'ha detta questa cosa l'ha detta lui l'ha detta proprio lui e poi ha detto qualcosa di razzista subito dopo bene bene prossimamente il vlog del viaggio in nord corea perfetto la prossima volta leggo un altro libro ma stiamo leggendo questo ma poi poi vediamo se va bene questa live l'ho già detto è una terra dal clima tosto inverni rigidissimi estate torride la gente del luogo non è troppo portata per le risate e se trova qualcuno che qualche sorriso glielo regala così senza chiedere nulla può essere che scatti l'amicizia in fondo quella tra me e i nord coreani non è che questo non è che questo una lunga bella storia di amicizia data così era il gennaio del 2007 io ero diventato da poco onorevole per la prima volta durante il governo Prodi ero stato inserito nella WIP unione interparlamentare come spesso accade noi di questi gruppi venivamo invitati dai paesi stranieri per promuovere i rapporti di amicizie tra le nazioni io questa cosa l'avevo in parte sperimentata quando vivevo in Svizzera con la mia associazione di abruzzesi trapiantati tra le montagne elvetiche l'incontro tra popoli la conoscenza il viaggio sono cose che hanno bene alla pace che fanno bene alla pace e alla cultura dei uomini non c'è niente di così affascinante che conoscere terre lontane spostarsi per scoprire nuovi posti e gente nuova a me poi che per tutta la vita non avevo altro che non avevo fatto altro che lavorare tra la Svizzera e l'Abruzzo e che a parte le gite organizzate con l'associazione di tempo per viaggiare con a parte le gite organizzate con l'associazione di tempo per viaggiare non ne avevo mai avuto mai non sembrava però oddio ma questo è scritto strano prossimo a darvi il manifesto del partito comunista sì è scritto strano c'è tutte ste vabbè perciò ero sempre pronto ad aderire a queste iniziative dal 2000 l'Italia sotto la spinta di Luciano Violante allora presidente della Camera e di Lamberto Dini aveva ripreso i contatti con la Corea del Nord istituendo una bilaterale di amicizia Lamberto Dini il famosissimo ex presidente del consiglio che durante il litigio durante il litigio tra Fini e Berlusconi nel 2010 lui che cosa faceva quell'uomo cosa faceva lui dormiva ma è proprio un sigma mail Dini proprio un sigma mail la Corea del Nord wow un posto che più misterioso non ce n'era si dicevano cose terribili sul conto di questo paese ma soprattutto non se ne sapeva molto beh per uno curioso come me era un'occasione d'oro già mi vedevo di ritorno nel mio paese a Giuliano Teatino a suscitare la curiosità dei miei paesani d'ossi stato anto avrebbero chiesti i vecchietti al bar non temo visto proprio non pusto lontano cari miei e a dove a Teramo e un poco oltre avrei risposto non fa tanto l'uomo misterioso oggi a Roma sarò stato avrebbero detto avrebbe detto un altro lo sai che il senatore sta sempre a Roma sono stato fuori d'Italia avrei continuato tanto per creare un altro po' di suspense avrei fatto lo stesso onestamente ma pur io infatti ah ho capito sei stato un'altra volta in Svizzera avrebbe affermato il secondo che è più informato no stavolta sono uscito dall'Europa un di meraviglia sarebbe risuonato nel bar moce devi di dove però si chiama Nord Corea mai sentito oh un francese ancora addio mio connazionale calabrese forse dovremo guardare i piraiti di calabria più tardi si poi mi unisco ehm francis ciao ciao buonasera dalla Francia spero che tu stia bene penso di aver sentito parlare di questo ragazzo prima il carissimo Antonio Razzi oh qua mi dovrebbero usare per una cazzo di spot pubblicitario allora aspetta la telecamera è così foto per i giornali da domani sul resto del carlino allora concurrent viewers tu puoi fare campagna elettorale per Razzi assolutamente assolutamente Razzi presidente della repubblica duemila duemila e ventinove sì Razzi presidente della repubblica duemila e ventinove questa volta lo diamo a Berlusconi lo concediamo a Berlusconi ma hai sentita ma sì avrebbe detto quello colto sta tra la Germania e l'Australia eh vabbè tra la Germania e l'Australia ci sta tutto il mondo avrei scherzato io amico caro si trova in Asia ma lontano nello stremo oriente sotto la Cina infatti gli abitanti sono molto simili dai cinesi e qui avrei riprodotto il classico viso orientale tenendo gli occhi tenendo gli occhi con le dita ma no questo Razzi Loki ma chi è questo questo sono queste spam queste spam ma che è questi sti spammoni poi no 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 hide ehm va questo ci stiamo sti spammoni report mi hai rotto il cazzo allora 2022 no dobbiamo darlo a Berlusconi questo questo tempo questo tempo dobbiamo darlo a Berlusconi va bene ah beh per il Razzi che fa così con gli occhi per far capire agli abruzzesi amici suoi al paesino di provenienza come cazzo sono fatti i nordcoreani eh certo scusa ecco appunto dai che mi combini forza e che ti hanno fatto mangiare Antò avrebbe chiesto il primo che va subito al sodo è un piatto simile al nostro cardone buonissimo il cardone per chi non lo conosce è una minestra diffusa sull'appennino e a base di diversi tipi di verdure e in effetti il loro malgheunguk aspetta malgheunguk malgheunguk che avevo trovato delizioso ricorda molto il cardone la nostra mitica minestra invernale diffusa in tutto l'appennino centro-meridionale solo e un po' più piccante vabbè bar di paese e cardone a parte sta di fatto che quando mi hanno proposto di andare a far visita alla repubblica popolare democratica di corea non ci ho pensato due volte fu un volo lunghissimo partimmo da Roma poi cambiamo a Rotterdam poi fino a Pechino e da lì finalmente verso Pyongyang la corea del nord all'epoca organizzava solo due voli settimanali dalla cina dalla cina cinese e da pochi mesi anche in inverno e capì subito perché una volta atterrato all'aeroporto della capitale nordcoreana sentì prima un freddo pauroso se non ricordo male eravamo verso i meno 30 una temperatura impossibile da sopportare persino per un ambruzzese di ferro come me e poi notai che niente a parte la pista era illuminato era pomeriggio tardi il sole era già scomparso e non c'era una luce ci spiegarono che l'energia elettrica era emanata solo due ore al giorno insomma non è che fu un inizio molto brillante in tutti i sensi ha spesso affermato che il leader supremo Kim Jong-un è un politico moderato il cui unico scopo è portare la democrazia in quel paese inoltre sempre paragonato alla Corea del Nord e alla Svizzera esatto questo l'hai preso da Wikipedia ah oh c'è Vittorio vai oh cardone qui significa cardo il cartone il prossimo prossimo live stream sono in Ambruzzo assaggiare sta cazzo di minestra allora ah mi raccomando ci vuole un plug eh guardate la mia maglietta su accattatevi la maglietta di per Nick the Great che poi su cazzi vi mando Kim Jong-un a casa se non vi comprate la maglietta gratulazioni per i 3000 grazie Vittorio sta cosa del sta cosa della corrente mi sembra una cazzata si in poco anche a me però vabbè il 2007 magari era diverso maglietta basata grazie Vittorio Samuele sono povero sei abruzzese? ma poveri gli abruzzesi allora dov'è arrivato in realtà dovrei avere anche quella di Cossiga e Salvini poi la vado a prendere ah per strada pochissime automobili e tutte del partito per una città di 3 milioni e passa di persone era un'inezia insomma l'atmosfera era decisamente tetra ma alla fine ero là per lavoro e dovevo restarci anche con con quell'iniziale disagio mi dissi Antò ne hai superate tante sta sereno e infatti quella frase mi portò a fortuna non tanto a letta mentre ci stavamo portando in albergo nel buio e nella tormenta di gelo che stava attraversando la città dotai cose che mi rincuorarono mi correggo non cose ma persone la gente gente che che sfidava il freddo e circolava alcuni in bici ma la stragrande maggioranza piedi tanto che anche le biciclette potevano essere dei mezzi di fuga verso la Cina e quelle persone ogni tanto per la fatica e il gelo si accucciavano su loro stesse allo scopo di prendere un po' di calore e riposare i muscoli e poi un altro dettaglio c'erano delle coraggiosissime vigilesse che nonostante le condizioni climatiche e con addosso giusto una divisa essenziale governavano il ridotto traffico della capitale erano là perché i semafori data l'assenza di elettricità erano spenti e beh quelle immagini di persone che continuavano a vivere e a fare il loro lavoro incurante del termometro a meno 30 mi commossero pensai che fosse davvero speciale questo popolo nordcoreano che mi stava ospitando mi ricordo mi ricordo un po' la storia del parmigiano viva lì per nickel grande comprati la maglietta grazie e c'era un'altra ragione a convincermi che si trattasse di gente particolare le vigilesse oltre che eroiche erano bellissime stupende delle fotomodelle in abito da polizia municipale e e a me le donne che volete fare mi sono sempre piaciute assai oh che carino Antonio Razzi quella quella di Renatino simp esattamente simp simp ma proprio simp pesantissimo Antonio Razzi che sbava per le vigilesse che stanno le vigilesse che che congelano a meno 30 gradi dice ah ma come sono brave queste vigilesse vigilesse inorcoreane esatto vigilesse tra l'altro la bellezza le vigilesse di Pyongyang fu la causa della prima chiacchierata con Gianpaolo all'epoca quello che ormai è il mio più grande collaboratore e tra i miei più cari amici era un assistente parlamentare con vari incarichi tra questi c'era il regolamento dei rapporti della commissione esteri con i paesi ospitanti in Corea c'era già stato varie volte quando si accorse di come guardavo quelle donne splendide mi parlò non male vero senatore disse madonna chi se l'aspettava feci io con lo sguardo ancora incollato ai finestrini poi mi girai e ci sorridemmo la bellezza delle donne di Pyongyang e soprattutto di poliziotte soldatesse famosa aggiunse una fama meritata qualche anno dopo Paolo Sorrentino avrebbe inserito in un suo racconto contenuto nel libro Tony Bagoda e i suoi amici un riferimento al fascino delle vigilesse nordcoreane non so se il regista premio Oscar ci sia stato secondo me l'ha saputo da qualche mio compagno di viaggio parlamentare perché furono molti a essere colpiti da questo particolare siamo sempre italiani oh e da buon italiano mi misi in testa di fare una fotografia con quella divinità indivisa onorevole non so se sarà possibile mi disse proprio Giampaolo con grande diplomazia fu il primo di tutta una serie di ottimi consigli che lui da persona di buonsenso qual è mi avrebbe poi elargito nel corso del nostro rapporto e che io ho puntualmente evitato di seguire da faccia tosta come sono e vabbè che male c'è appena scendemmo dall'autobus in quel freddo allucinante chiesi ai nostri interpreti se c'era la possibilità di scattare una foto con una vigilessa risero tutti capendo il motivo e dissero di sì perché la gente la conquisti facendola ridere e io sono uno specialista di questa categoria ha rotto il cazzo con sta con sti cazzo di spam pieno di spam ciao fratelli italiani dagli Stati Uniti sto imparando l'italiano e ascolterò questo flusso buona sapersi Madtown Animal House allora parlerò più lentamente chestnut qui mi siedo con il cuore spezzato perché sono venuto alla merda ma ho solo scorreggiato grazie per questo messaggio aspetta com'era dove sono arrivato ecco qua e infatti come dicevo all'inizio fu una risata a garantirmi l'amicizia della Corea del Nord ma non una risata qualunque una risata presidenziale ci trovavamo nei giorni successivi all'arrivo nella torre Jush fu costruita nel 1882 per celebrare il settantesimo anno di vita di Kim Il-sung il primo presidente della Corea del Nord è un monumento incredibile alto 170 metri e composto da 25.550 blocchi di pietra uno per ogni giorno di vita del presidente eterno si chiama Jush con il nome della dottrina da questi creata una sorta di via di mezzo tra comunismo e tradizionalismo coreano con un po' di autarchia e patriottismo dicono sia il secondo edificio monumentale più alto del pianeta persino di più un metro di quello costruito per Washington li ha contati li ha contati lui comunque stavo guardando le targhe di tutti i paesi che hanno rapporti istituzionali con la nazione che mi ospitava e mi trovavo proprio dalle parti di quella italiana che ammiravo con un certo orgoglio in quel momento arrivò per i saluti di rito Kim Jong-nam presidente del presidium dell'assemblea popolare suprema l'equivalente del presidente della repubblica mi presentarono a lui come membro della delegazione italiana Italia disse senza mostrare troppa cordialità io ho un amico in Italia lo guardai bene perché bisogna sempre guardare attentamente le persone quando lei quando non le si conoscono per capire qualcosa aveva i classici tratti del burbero benefico ok mi convinzi che sotto la scorza del duro dell'inflessibile capo di una dittatura era nascosto un uomo buono e un uomo affidabile ah e chi è feci io Giorgio Napolitano rispose con apprezzabile impressione italiana alla faccia Napolitano da qualche mese eletto presidente della repubblica e come mai eccellenza lo conosce chiesi abbiamo fatto la scuola di comunismo insieme anni fa a Mosca figo registrai la cosa con un certo stupore il nostro capo di stato era stato decenni prima alle prese con questi apparati di potere dal sapore antico quasi un anacronismo pensando a chi era nel 2007 Giorgio Napolitano eppure non mi scomposi allora porterò a Napolitano i suoi saluti appena lo vedo infatti così feci una volta tornato in Italia ma sul momento la reazione infatti così feci una volta tornato in Italia ma al suo momento la reazione di Kim Jong Nam fu di interesse nei miei confronti come vanno le cose in Italia chiese avanzando nella torre avete problemi con altri paesi chiese ci eravamo staccati dai nostri gruppi e con noi era rimasto solo l'interprete potevamo sembrare anche noi due vecchi amici guardi eccellenza noi italiani è difficile che abbiamo problemi con altri stati dissi lui attese la traduzione e fece il viso curioso come fate domandò aia e io che cosa potevo dirgli forse mi ero spinto troppo in lacco la conversazione addentrandomi in territori di cui non ero padrone e poi cosa potevo spiegare a uno degli uomini di vertice di una nazione da sempre in guerra con gli altri paesi vicini e lontani addirittura alle prese con un conflitto intestino che durava da decenni però dovevo uscirne in qualche modo e io nelle situazioni delicate me la sono sempre cavata con la sincerità con la mia genuità perciò mi buttai ma sai eccellenza noi italiani noi siamo fatti per avere non siamo fatti per avere nemici risposi perché abbiamo un segreto divenne ancora più curioso si fece sotto sotto con aria assolutamente interessata può dirmelo fece certo dissi quando c'è qualche difficoltà di dialogo noi ci mettiamo a tavola e davanti un bel piatto di spaghetti e un bicchiere di vino passa tutto il traduttore fece prima fece un'espressione incredula poi iniziò a sghignazzare il presidente lo sollecitò non stava nella pelle di capire anche lui la mia uscita quando ebbe la traduzione Kim Jong Nam scoppiò a ridere anche lui prima in modo calmo poi in maniera convulsa fui felice all'uscita della torre si avvicinò un tizio che si qualificò come uno dei più stretti collaboratori di Kim Jong Nam e mi rivelò una cosa lo sa senatore in vita mia è la prima volta che vedo i denti di un'eccellenza il motivo è che non l'avevo mai visto ridere wow chad razzi credo di si pronunci giusce ah no mi sa che hai ragione tu air cringe si conferma un certo russo che mi spamma report ehm ai ciao vigoda qua si parla italiano a casa le aiutiamo a casa loro ma sono stupito razzi ci fa più ci fa più di quanto ci è è vero Giancarlo Antonucci poi è una bella storia ah abbiamo finito il primo capitolo quindi io direi che dobbiamo fare una pausa intanto aspetta che bevo un po' d'acqua poi vi faccio vedere in che consiste la pausa merda è da 50 minuti che sto leggendo ma siamo non abbiamo appena iniziato vabbè allora qua ci abbiamo altri libri che vi consiglio di leggere parto subito da uno abbastanza corto ma penso che sia un must read in effetti per gente che vuole sapere pausa cannetta che che voglia conoscere di più la storia d'Italia questo qua è un libro che mi è stato assegnato dalla mia professoressa Paola Bordandini da studiare per il mio esame di sistema politico italiano alla magistrale di cui faccio parte questo qua è il libro di Carlo Guardieri il sistema politico italiano è praticamente parte da in realtà dall'unificazione con la storia d'Italia dall'unificazione fino alle riforme di Renzi è scritto anche piuttosto bene per saperne di più ah no questo verso quale repubblica le riforme di Renzi e le elezioni del 2018 questo questo ok ok quindi si è in italiano purtroppo raga tutti i libri decenti sulla storia italiana sono in italiano non ci possiamo fare niente per fortuna ci sono io che traduco molti degli aspetti principali così per fare video belli tipo 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 plotagon la russa che si ubriaca con colluttorio che è sta gente che mi scrive oh hanno rotto il cazzo scritto G24 squad vabbè mi sa che devo rispondere dopo che poi è brutto sto con voi raga priorità però mi sa che non so se la mia gola regge tutto sto tempo devo dire che la verità io ci provo poi vediamo vediamo un po' se domani si avrà ancora la voce capitolo 2 la corea da dentro molti di questi titoli sono un po' ambigui prima era la mia prima volta adesso la corea da dentro beh non è non è che solo una con quella risata sono riuscito a tornare tante volte in nord corea ma fu la scintilla di un rapporto perché io lo dico sempre un sorriso vale più di mille parole pausa pausa cena tra poco mangio un panino kebab tu devi mangiare roba italiana ma che è roba turca oh pittò buona lettura oh poi torna eh che qua stiamo qua per tanto tempo guarda questo ci deve abbandonare per un kebab noi stiamo qua a leggere roba italiana e questo se mangiare il kebab oh non va bene meloni sarebbe molto deluserti molto ok e il nostro è sicuramente nato sotto una buona stella come fu e come non fu king john nam mi prese in simpatia e mi ha sempre ricevuto ad ogni invisita istituzionale che ho fatto che ho fatto in quel paese fino ad arrivare quasi allo sgarbo verso gli altri nel 2015 su 153 delegazioni volle vedere solo me roba italiana di altissima qualità ma proprio altissima ma proprio ma sta là cioè non ci arrivo con l'altezza io sono alto un metro e sessanta raga oh ma proprio altissima proprio sono così alta che per farvi vedere quanto cazzo è alta ho fatto il saluto romano per sbaglio cioè siamo a questi livelli signori allora rispetto a queste mie continue gite nel sud est asiatico la gente si divide in due gruppi ci sono quelli che sospettano e che chiedono come mai vai tante volte in nord corea come se chissà cosa dovessi fare quali affari stessi portano quali affari stessi portando a termine e poi quelli che mi pongono la domanda in un modo diverso sinceramente interessati ma perché ci vai in questo senso differente dai primi senza malizia mi chiedono in pratica chi te lo fa fare chi ti dà la forza di prendere tre voli lunghissimi e andartene dall'altra parte del mondo a stare in un luogo neanche troppo a meno magari per pochi giorni alla tua età la risposta in questo caso è semplice se mi invitano ci vado se mi invitano ci vado non deve lavorare tanto non si rifiuta l'invito io devo andare se mi invitano è una cazzo di dittatura dove muoiono un sacco di persone di fame e io devo stare là fa 24 ore di viaggio tre voli gli scambi ma ne è invitato raga che devo fare lo dì di no è che me ne privo dai non ci sono errori sono felici coincidenze io vado in Nord Corea e vado a fare il saluto romano io sono italiano mangio gli spaghetti sniffò cocaina così si fa in Italia forza raga sveglia la risposta in questo caso è semplice ok c'era la mia buona educazione e fino a quando sono stato senatore il protocollo istituzionale era mio dovere fino a pochi mesi fa andarci negli anni sono diventato presidente della bilaterale di amicizie tra i nostri paesi e poi questi viaggi non sono affatto male l'ospitalità è completamente a carico della Corea e che ospitalità i migliori alberghi automobili lussuose con autista autista un interprete continui spostamenti in posti molto interessanti cene magnifiche e divertenti perché a dispetto di ciò che crede la maggior parte degli occidentali la Corea del Nord sta cambiando com'era? l'aria sta cambiando? il tempo sta cambiando Virginia Raggi di venire colpita da un cartello stop quella che prima era una dittatura all'antica di cui ebbi una forte impressione nel 2007 oggi sta cercando di evolversi manco fosse un Pokémon direi di non occedere oddio direi di noci di non oddio direi di occidentalizzarsi se non fosse un termine ancora tabù per loro ma nei fatti è così basato quel paese buio e tetro oggi è ben altro la gente esce più liberamente i ristoranti sono affollati e ovunque ci si può imbattere nei tradizionali nei tradizionali karaoke tra musiche e cori il K-pop oh hai rotto il cazzo russo di merda voi figli oh ma che basta hai rotto il cazzo hai rotto i coglioni questo cazzo devo ha rotto i coglioni a volte appaiono magari anche voi raga quando li vedete fate un report non so tanti non è preoccupante però da fastidio sti russi sti russi ci hanno cercato di sabotare la nostra lettura italica ragazzi non va bene ma non va bene no la gente esce più liberamente i ristoranti sono affollati e ovunque ci si può imbattere nei tradizionali ok questo l'abbiamo già visto K-pop praticamente praticamente irriconoscibile una prova una volta non si potevano usare i telefoni né per chiamare né per fare fotografie e filmati se ti li beccavano addosso li requisivano adesso si può tenerli fare foto e video chiamare è più difficile dato che non c'è mai campo ma è già molto è Putin è Putin si le cose cambiano e l'inizio del cambiamento ha una data precisa la morte di Kim Jong Il a fine del 2011 e l'ascesa del suo terzo genito Kim Jong Un all'inizio sembrava volesse impiantare una dittatura anche peggiore invece le cose sono cambiate nettamente ecco io forse sono diventato ben accetto in Nord Corea perché queste cose le ho raccontate e le racconto ancora adesso e dato che ho parlato bene di loro mi hanno apprezzato sono attualmente uno dei degli occidentali più benvoluti in Nord Corea se voglio andarci domani posso farlo mando una mail e il gioco è fatto ad altri ci vuole tantissimo più di un mese mi hanno preso in simpatia perché li difendo sulla verità agli occhi dell'opinione pubblica mondiale perché la gente sa essere cattiva e spesso parla senza conoscere le cose le cose le cose verso il filo mi sto facendo troppo trasportare dalla letteratura razziana ragazzi dal punto che perdo il filo ok e dato che la Corea del Nord l'ho vista da vicino devo parlarne la sintesi è che peccato se uno ci pensa viene da mordersi le mani quel posto ha un mare di potenzialità a partire da quelle turistiche perché la Corea del Nord è udite udite un posto bellissimo bellissimo che grande leggi leggi che interessante geograficamente a tutto campagne fiorite montagne suggestive boschi folti la natura magari anche per l'assenza di grandi città e di industrializzazione significativa è rimasta intatta nella maggior parte del paese di nuovo mi ricorda molto sia l'Abruzzo che la Svizzera anche perché dei monti hanno un vero e proprio culto e non è che un modo di dire c'è il monte pektu la montagna sacra un vulcano nel cui cono c'è uno spettacolare lago centrale nelle leggende e nella storiografia coreana non a caso la Corea del Nord lo cita nel suo indo nazionale è la storia ufficiale è la storia ufficiale vi situa i natali di Kim Jong Il aspetta che vi situa i natali il padre dell'attuale leader e precedente numero uno di Pyongyang alla cui nascita si manifestò un arcobaleno e si sentì il ruggito di una tigre che tresciata o quando son nato io ruggivano i ratti quella è una sfida identica ma identica ma stessa roba ma stessa roba raga ma proprio identica o se tu vai proprio là te le trovi tipo la gente che nel rivenorario cazzo razzi meglio di una proloco mi sta venendo voglia di rafferirmi in questo paradiso andiamo tutti in Nord Corea raga ruggivano i razzi ruggivano le tigre i razzi sì 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 ok era considerata la montagna ancestrale già durante le storiche dinastie Corio tra il 918 e 1392 e Choson 1392 1897 nel XIX secolo fu identificato dai pensatori nazionalisti come il luogo di nascita del leggendario primo re coreano Tangun e questo diede il via a un vero e proprio culto Tangukio che fu elemento unificatore di una rivolta nazionalista nel XX secolo si è spesso fatto riferimento al monte Paektu come Yongsan cioè montagna sacra e dopo la suddivisione in due della penisola è diventata a lungo inaccessibile ai cittadini del sud anche se dagli anni 80 è stato riaperto un canale turistico che però è spesso soggetto ai capricci della situazione politica intercoreana il Paektu è considerato simbolo vivente della nazione coreana e per questo motivo la dinastia nordcoreana dei Kim ha legato strettamente la sua immagine a quella del monte Paektu oltre alla nascita di Kim Jong-il sulla montagna sacra ci fu il primo incontro tra il fondatore della Corea del nord Kim Il-sung nonno di nonno di Yong-un e Kim Jong-suk prima moglie di Kim Il-sung e amatissima eroina rivoluzionaria eroina tangiucco sembra un insulto o una minaccia si sembra sembra il nome di uno sciroppo per la tosse poi ci sono varie attrazioni come i musei là hanno un culto della memoria però molto sentito a parte il museo della guerra che se uno non pensa a cose dedicato resta superbo in piena Pyongyang su un fiume c'è una nave una nave enorme evidentemente non un battello fluviale ok ma non è una nave qualunque è il bottino di guerra una sorta di trofeo che l'esercito nordcoreano ha sottratto alla marina statunitense la storia l'ho sentita diverse volte il 5 gennaio 1968 la nave USS Pueblo salpò dal porto giapponese di Yokosuka con l'incarico di effettuare delle ricognizioni sull'attività navale sovietica nello stretto di Tsushima nel mar del Giappone il 23 gennaio l'imbarcazione fu intercettata da un caccia sommergibile nordcoreano la Pueblo tentò di allontanarsi ma fu bloccata dall'intervento di altre unità navali e da alcuni aerei del MiG-1 nordcoreani dei MiG-1 nordcoreani tentarono di avvicinarsi per salire a bordo ma l'imbarcazione statunitense compì alcune manovre per impedirlo dopo circa due ore le unità nordcoreane aprirono il fuoco e con colpi di cannone e mitragliatrice la nave venne quindi scortata verso la costa e durante il trasferimento venne cannoneggiata una seconda volta Pueblo venne fatta attraccare al porto di Wonsan mentre i membri dell'equipaggio furono trasportati in un campo riservato ai prigionieri di guerra dopo lunghe trattative tra i due governi il 23 dicembre 1968 i membri dell'equipaggio vennero condotti nella zona demilitarizzata al confine con la Corea del Sud e rilasciati la nave venne invece trattenuta nel 2009 venne collocata sul fiume Teodong che attraversa la capitale per essere aperta al pubblico diventando in breve tempo una delle maggiori attrazioni turistiche della città la lezione per i turisti e studenti di tutto il paese è tenuta da uno dei soldati che compì la cattura ormai un eroe ormai un eroe nazionale versione un po' passata della Bibbia esatto tra i vari musei ce n'è uno dedicato a tutti i regali delle altre nazioni me lo aveva raccomandato Elio Giancarlo Valori uno dei pochi politici italiani che prima di me aveva frequentato regolarmente il paese mi colpì la presenza di molti doni da parte dell'Italia quasi tutti i rappresentativi delle nostre eccellenze i vetri di Murano le ceramiche di Faenza le stoffe toscane e decine di altre meraviglie guardarle ogni volta dato che spesso ci torno per mostrarlo agli amici cui faccio da guida mi rende quasi nostalgico mi fa sentire a casa e mi suscita pensieri di pace la bellezza dell'arte come lingua universale e la sacralità del dono come simbolo di un ponte tra i popoli e culture diverse una cosa che noi mediterranei presso cui si sviluppò l'ospitalità come istituto sacro non dovremmo mai dimenticare ah parlando di cose sacre mi viene in mente un altro posto speciale un tempio buddista superbo dove si trova vicino alla capitale che si trova vicino alla capitale è un posto di una bellezza indescrivibile con sculture antiche e quasi parlanti abbienti suggestivi esotici per per uno abituato alle chiese italiane però oddio è scritto nave molto basata yes doctor ma quante ne sa io ho vinto due concorsi di spaghetti allo scoglio basato stuccos is this the versione della bibbia secondo razzi si ma raga credo che abbia copiato e incollato la parte dove lo stesso dici dici no ti prego no ti prego si no l'hai cercata no ti prego dimmi dici manda il link in chat manda il link in chat e poi così tutti vedono dai 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 no ma cosa dici no doctor razzi è il nostro dio non farebbe mai una cosa del genere vero li tolgo sti occhiali vediamo un po perché questi qua si sono incastrati allora sti occhiali non sono per farmi vedere chiariamo questa cosa sti occhiali sono per proteggermi dai raggi cattivi del computer perché non mi fanno dormire sì sì su wikipedia è così no doctor no doctor ci hai distrutto un mito doctor sei bannato da questa live ciao hai distrutto tutto hai rovinato tutto si scherza poi restare dunque però con quel tempio che ripeto è davvero meraviglioso intrattengo un rapporto un po' ambiguo non voglio essere frainteso però ora spiego perché ogni volta voglio entrare poi mentre sto per farlo ci ripenso e le ultime volte mi sono fermato sulla soia sì lo so sembra un discorso da pazzo ma invece un ragionamento molto pratico che ho sviluppato alla prima occasione in cui l'ho visitato successe che mentre entravo arrivò un tizio che mi si parò davanti il suo contegno era decisamente curioso si vedeva che voleva ostacolarmi va a capire perché ma manteneva un sorriso radioso la scena osservata da fuori era comica c'era un giovane nordcoreano che sbarrava sorridendo l'ingresso a un tempio buddista a un anziano abruzzese senza specificare perché saremo stati vari minuti in quel silenzio in quel silenzioso duello allo coral versione orientale e la situazione non si sbloccava che vuoi pensavo ricambiando il sorriso e vattene finché sentite le risate dietro di me era la mia adorabile interprete senatore che fa chiese e che faccio che fa lui magari questo ragazzo non mi lascia passare e non capisco perché come perché guardi mi disse indicandomi la terra io osservai attentamente il terreno come mi aveva detto la donna ma non riuscirei a intuire che bisogna fare forse devo inginocchiarmi lo faccio subito proposi già pronto ad abbassarmi no 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 guardi le scarpe fece lei in effetti a osservare bene verso i piani bassi di tutti i presenti si notavano due cose primo erano tutti scalzi secondo in un lato dell'ingresso erano ammotticchiate decine di scarpe questo significa che bisogna levarsene e si senatore è la regola per chi entra in un tempio buddista ah perdonatemi non sapevo risposi e mi tolsi un po' di e mi tolsi un po' pensierioso i miei bellissimi mocassini cazzo sto qua dei mocassini non è basato in che senso sembra un racconto erotico scritto male ah perdonatemi non sapevo ero pensieroso per motivi precisi se c'è una cosa che detesto togliermi le scarpe senza preavviso feticista è un fatto igienico prima di tutto poi senza scarpe per strada mi sento come nudo la scarpa è un accessorio fondamentale una delle invenzioni più importanti della storia si io sono fissato con le calzature ho sposato una spagnola e da quelle parti c'è un proverbio un ombre se giuga por su sapato si il sapato esta suiso e l'ombre es suiso si esta si esta limpio e l'ombre si esta limpio e l'ombre es limpio ammazza orazzi che parla pure spagnolo proprio un latin lover che tradotto viene più o meno così un uomo si vede dalle scarpe se uno se sono sporche è un uomo sporco se sono pulite quell'uomo è pulito beh inutile dire che le mie sono sempre lucidate a fondo perché sono di buona fattura e ci tengo assai a sfoggiarle razzi razzi poliglotta oh poi ho visto verso la fine che c'è un tratto in inglese infatti un po' mi seccava lasciarle in quel mucchio indistinto ma non era questo il problema fondamentale il guaio era un altro e puntualmente si presentò alla fine della visita che fu bella e interessante per carità vedi cose che non avevo mai visto però restava quel pensierino in sottofondo e in parte me lo guastai uscendo cercai con lo sguardo Giampaolo lui capì e si avvicinò che c'è Antonio? e che c'è? rispose urtato ora come faccio? a fare che? vedi vedi se trovi qualcosa un legnetto un pezzo di plastica duro dai ma per far cosa Antonio? ripete lui stralunato ma come per cosa è evidente gli dissi mentre ancora vagavo con lo sguardo lui si fermò un attimo voleva aiutarmi come sempre è una delle persone più gentili che conosco ma non capiva e anche dopo avermelo chiesto più volte non riusciva a intuire di cosa avessi bisogno d'altra parte io non ero alla ricerca dell'oggetto desiderato un po' mi vergognavo di parlare di certe cose in quel luogo sacro io vorrei aiutarti ma non ho capito come concluse lo fissai a quel punto mi faceva un po' pena e dovevo uscire dall'impasse il calzascarpe jumpa dissi mi spiegai come come capistarola e capistarola faccio oh dio capistarola mi spieghi come capistarola faccio a mettermela addosso oh sti russi marona sti russi hanno rotto il cazzo stiamo cercando di leggere robe italianissime troppo italiano sto libro quindi vabbè questo vuole il vuole il calzascarpe cazzarola eh caspitarola giampaolo mi guardò ancora un secondo facendo un viso allucinato poi esplose esplose dalle risate solo tu fece solo tu puoi preoccuparti tanto di un calzascarpe in un posto del genere e se ne andò infatti rimasi io col mio problema alla fine risolsi infilando mole senza alcun aiuto cosa che detesto per alcuni motivi ma va adesso mo deve passare con sta pippa che perché non vuole c'è una cazzo di che mo non gli va bene che deve mettersi le scarpe senza la calza sono buo primo forzando l'ingresso del piede si possono rovinare secondo si rischia di cadere tale è la resistenza dell'ottima pelle che uso per le mie calzature terzo vabbè basta cioè tre motivi poi terzo vabbè basta se ci penso di nuovo mi pigliano i nervi tanto è vero che tutte le volte che ci sono tornato sono rimasto fuori dall'entrata del tempio a sorridere e a ricordare a tutti gli altri turisti che in quel benedetto tempio e che diamine si entra scalzi tempri problematici e assenza di calzascarpe a parte ah è un'idea per un business esportiamo calzascarpe italiani in Nord Corea in questo paese ci si può divertire io adoro ad esempio stare bene a pescare a mare nei laghi nei fiumi è un momento di pace e meditazione la si può fare in parecchi posti davanti ad alcuni ristoranti di campagna poi hanno delle vasche con dentro trote e salmoni puoi pescarle e te le cucinano dentro parola di pescatore da grande soddisfazione mangiare il cibo che ti sei procurato con le tue stesse mani anche se così è piuttosto facile a dire il vero la cucina coreana mi piace molto è una cucina semplice e salutare fondata fondata facile a immaginarlo sul riso riso sempre anche a colazione per accompagnare carne e pesce e sulle verdure fanno una minestra il chimici che è speciale è fatta con cavolo e peperoncino mi ricorda parecchio alcune ricette delle mie parti poi si mangiano gli spaghetti di soia o freddi o bagnati in un ottimo brodo di pollo entrambi i piatti mi piacciono parecchio e sento che mi fanno bene alla salute e alla linea oh quando torno dal nord corea mia moglie dice che sembro un figurino ma è proprio un boomer Antonio Razzi possiamo dirle proprio un figurino chi cazzo usa figurino cioè nessuno dopo gli anni 80 usa la parola figurino andiamo su comunque torno mi ritorno mi metto gli occhiali di nuovo perché sono molto figo con gli occhiali mi piaccio con gli occhiali forse mi devo diventare mio soltanto perché così posso avere gli occhiali sempre e guarda quanto cazzo so intelligente con gli occhiali c'è proprio una cosa meravigliosa ah a proposito di mia moglie l'unica volta che è venuta anche lei maria jesus questo è il suo nome ci hanno portato in visita in una scuola una scuola perfetta pulitissima e attrezzata in una delle aule c'era un gruppo di bimbi piccolissimi avranno avuto 2-3 anni che giocavano seguiti da alcuni docenti erano meravigliosi sembravano dei pulcini maria jesus si commosse molto e notammo una cosa alcuni erano intenti a fare delle costruzioni altri a giocare con palette e secchiello altri ancora con fogli di carte e matite e dei mini strumenti musicali fumi a moglie a parlare come mai non fanno tutti lo stesso gioco chiese perché pensiamo di avere individuato già dalla loro età delle tendenze quelli che giocano con i mattoncini potrebbero essere portati per ingegneria gli altri per la pittura o la scrittura altri ancora per la musica o l'agricoltura assecondiamo le loro vocazioni in pratica di solito le statistiche sono buone ma guarda siamo proprio a livelli finlandesi di istruzione cose del genere l'azzolina se le poteva soltanto sognare un ragionamento pedagogico che ci lasciò ammirati insomma in quel posto si vive bene e si potrebbe vivere meglio e si potrebbe vivere meglio con tutto questo non voglio sostenere che sia tutto rosa e fiori è sicuro non c'è la democrazia come da noi ma nelle nostre nazioni non hanno neanche le strutture le tutti hanno una casa istruzione e sanità gratuita doubt sono persone di grande abnegazione lavorano sempre e soprattutto la terra è difficile che non ci sia un pezzo di terra non lavorato spesso presso i centri più grossi mi colpisce che vivano l'agricoltura come da noi si faceva nel dopoguerra con l'aratro e la vacca sembra davvero di stare nell'abruzzo della mia infanzia coltivavamo soprattutto il riso chiaramente e le mele hanno piantagioni di mele di migliaia di ettari i pochi macchinari che hanno a disposizione poi sono italiani me lo mostrarono con un certo orgoglio in una delle mie visite sono macchine che servono per la trasformazione della frutta in succo e in cosmetici là si produce un ottimo shampoo alle mele per esempio con strumenti italiani io pure ne fui fiero anche stranito nel vedere in un angolo così remoto del mondo quegli attrezzi devono essere arrivati la prima della fine dei rapporti commerciali con l'Europa e li conservano ancora perché a differenza dei nostri paesi quel popolo è vittima di un embargo che dura da tempo il WON la loro valuta in assenza di scambi con altri paesi non vale nulla ma loro ce la stanno facendo senza aiuti senza compromessi solo con le loro forze penso sia giusto tentare di aiutarli e con le mie poche risorse è stata una delle cose che ho cercato di fare da subito partendo dal calcio ah fra poco si parla di calcio non poteva essere un libro italiano non esiste se almeno non si parla di calcio non si parla di calcio almeno una volta raga ma così ok capitolo del calcio cinque quattro pagine quattro pagine infatti la Finlandia ha copiato la Corea si fatti fatti comunque pausa libro capitolo tre allora quanti libri c'ho? no sapete una cosa la pausa libro la facciamo dopo il capitolo tre adesso c'è pausa calcio io sono un esperto di calcio ragazzi perché noi siamo in Italia calcio basta oh se non si parla si si parla di calcio si pacca il culo alle giornaliste fuori allo stadio si parla del pallone si dice quanto è figa quella quella bionda là come cacchio si chiama quella là che tutti quanti dicono le otta non mi ricordo come si chiama raga datevi una mano poi si rutta e si vota Salvini bello il badminton a me piace più il tennis però bello il badminton bello il badminton il mio sport preferito se il tennis mi piace anche molto il nuoto in realtà bello il nuoto l'unico sport in cui non faccio pena io sono bravo a nuotare allora ok raga pronti carichi qua vedo solo Samuel in chat si il calcio ora non vorrei essere scambiato per il solito italiano donne spaghetti e pallone anche se dalle vigilesi alla battuta che ho fatto al presidentissimo fino a quanto sto fino a quanto sto per raccontare il rischio c'è e vabbè lo ammetto sono una persona normale eh alce d'accordo già l'ho detto e lo risbadisco mi piacciono le cose di tutti i giorni e finché posso starmene a casa con mia moglie che è la donna più bella del mondo con un piatto di pasta è una partita da godere mi sento un re ma qua non stiamo parlando della mia trascurabile persona dicevo che tramite il pallone sono riuscito a mettere a segno i primi colpi per l'apertura delle relazioni nordcoreane col mio paese ora c'è una cosa che accomuna tutto il mondo se c'è una cosa che accomuna tutto il mondo è lo sport il calcio poi non ne parliamo non c'è un posto che ho visitato stati uniti a parte dove sono dove non spopoli dove non spopoli il calcio per me c'è un motivo preciso la sua semplicità a tutti noi sin da piccoli è bastato un pallone da nulla uno zaino per fare la porta qualche amico e via di partite su partite come succede a noi in Europa così vale per l'Africa dove i bimbi non hanno nulla se non la voglia di rincorrere la palla in Sud America dove nascono parleggiando e anche in tutta l'Asia non sono mai passati alla storia per grandi vittorie ma ne vanno matti guardate quello che succede quando un nostro club finisce laggiù per qualche competizione gli stadi si riempiono fanno a botte per una foto e impazziscono per i nostri calciatori il nordcoreano nonostante le chiusure non fa eccezione l'eco delle gesta dei grandi giocatori europei e sudamericani arriva anche qua puoi controllare un paese quanto vuoi e barricarlo rispetto al mondo le notizie sul calcio arriveranno comunque perciò anche da loro si è diffuso negli ultimi 50 anni in un modo esponenziale i loro fratelli del Sud Corea hanno addirittura organizzato un mondiale nel 2002 e la sfida con loro ci costò l'eliminazione quando penso all'arbitraggio di quel di quel tale Biron Moreno ancora mi sento male e oltre il 38esimo parallelo stavano a guardare attentissimi anzi a proposito di eliminazioni scottanti degli azzurri i nordcoreani ancora vivono dei fasti di quella vittoria in attesa che ci rifilarono in Inghilterra nel 1966 ed oggi è l'unica volta che hanno vinto una partita al campionato del mondo oltre a costituire la prima vittoria di una squadra asiatica nella competizione ed è annoverato come uno dei loro più grandi successi sportivi se ci penso questo mi fa meno male mi fa quasi piacere che sia stato il sacrificio sportivo della mia nazione ad aver regalato loro pagine di gloria perché ormai mi sento un po' coreano anch'io questo è proprio un po' di white guilt grazie Argentina or Brazil un po' tutte e due scusate l'ignoranza chi è Biron Moreno un arbitro non ho capito anch'io anch'io francamente a proposito tutti ricorderanno il famigerato Pac Ducchi il calciatore che infilò la porta azzurra in quel mondiale inglese si è sempre detto che era un dentista e invece io ho scoperto di no me l'ha detto lui fu divertente il nostro primo incontro dopo le presentazioni ufficiali come sempre mi misi a scherzare e caro Pac quanto te ne dissi quella sera feci senatore mi sa che in Italia non posso proprio farmi vedere rispose molto divertito lui senti da quel momento ho un mal di denti cronico non è che me lo curi tu anche lei con questa storia perché tu non sei dentista ma no non so perché tutti pensano così sì mi ero preso un diploma da tecnico odontriatico ma da giovane non ho mai non ho mai professato professato pagato pagato no ho mai visto il mondiale del 2002 avevo tre anni ma che mondiale del 2002 ci sono stati mondiali ah no 2002 sì mondiale del 2006 partita più scandalosa della nazionale questa me la devo la devo andare a cercare dopo Corea Italia poi me la guardo c'è Nord Corea Italia giusto? ah ok io sono del 99 allora andiamo avanti Sud Corea ma qua parliamo del Nord devo leggere questa cosa della partita 94 ah vecchio vabbè dai andiamo avanti ragazzi c'era tutto un paese incazzatissimo allora devo proprio informarmi sembra interessante sta cosa non lo sapevo e che ci vuoi fare Pac la stampa la stampa è terribile è sempre stato un insegnante di educazione fisica oltre che valente calciatore poi dopo il mondiale in cui la Corea si qualificò ai quarti e si era pure portata sul 3 a 0 con il portogallo di Eusuebio venne messo a dirigere la nazionale olimpica e ha proseguito la carriera tra atletica e calcio nel 2008 fu incaricato di fare da Tedoforo il portavoce della fiamma olimpica ai giochi di Pechino comunque i dirigenti della federazione calcistica mi hanno chiesto di capire se ci fossero delle squadre italiane interessate a comprare qualche loro giocatore e fu per me una sorpresa ma come disse a Giampaolo appena restammo lì prima non uscivano manco Cristo da qua e ora ci propongono di far trasferire sti ragazzi da noi e una volta che stanno in occidente tra soldi e donne quando rientrano questo è vero che ti devo dire rispose si vede che ormai l'apertura sta vivendo la Corea li porta a non preoccuparsi di questo aspetta si vede che ormai l'apertura che sta vivendo la Corea li porta a non preoccuparsi di questo eh sì le cose stanno davvero cambiando perché i calciatori scopano a merda se tu glielo vai a dire a un nordcoreano che la figa non la vede neanche col binocolo cioè ovvio che gli dice certo oh voglio andare in Italia voglio un po' di figa italica ma noi non gliela diamo perché la figa italica è solo per gli italiani prima gli italiani Salvini 2023 2023 ah si viene a quella partita si diceva ognuno ha la sua Corea del Nord perché si riferiva alla partita 66 ma poi nel 2002 incontriamo la Corea del Sud una partita che è rimasta la storia ah ma infatti per i due partiti insieme allora ok ah ma non è che l'idea fosse rimessa solo a me era infatti il 2013 quando in ossequio alla direttiva governativa di fare della 2000 cazzo della nazione una potenza sportiva la federazione calcistica nordcoreana inaugurò la scuola internazionale di calcio a Pyongyang un istituto che permette ai più giovani talenti della nazione di seguire gli allenamenti i corsi di formazione sportiva e garantire il diritto allo studio oltre che poter esistere assistere e partecipare a corsi e allenamenti di esperti e tecnici stranieri così inviò una trentina di ragazzi nordcoreani di varietà in due scuole di calcio una in spagna a barcellona alla fondazione marseille l'altra in italia a perugia all'italian soccer management italian soccer management il primo problema da noi fu l'età i ragazzi che la federazione coreana voleva inviare erano tutti minori e senza accompagnatore perciò contattai il ministero degli esseri e chiesi un'eccezione dato l'ambito sportivo e diplomatico ci fu concessa parlai chiaramente ragazzi qua ci dobbiamo dare una mossa questi qua vogliono uscire vogliono farsi conoscere aiutiamoli quindi andiamo ai minorenni va bene scusate ragazzi ma mi sa che sono un po' più vecchio di voi oddio barcelona sì è una scuola in barcellona alla fondazione marseille ok mi sembra un modo di ragionare che va dalle parti della pace che poi e poi sono proprio bravi lo prova lo provano i fatti nello stesso anno questo piano che passava dalle due scuole calcio europee che accolse gli nordcoreani regalò a Pyongyang da subito importantissimi risultati nel 2014 la nazionale under 16 vinse la coppa d'asia di categoria a firmare il successo nella finalissima contro la contro la sudcorea furono i nuovi i due diamanti più puri Ang Quang Song e Chue Song Yok poi accade che la giovane nazionale venne di fatto traslata completamente a Perugia dato che i rapporti con il club catalano si erano interrotti c'era l'obiettivo di preparare il mondiale under 17 che avrebbero poi chiuso agli ottavi di finale contro il Mali in seguito finalista così anche grazie all'aiuto di amici abruzzesi esperti di calcio organizzai dei provini itineranti per le grandi squadre del nord ho contattato le dirigenze dei principali club Inter Milan anche la Juventus la mia squadra del cuore Juventino scusate dicevo nessuno si convinse a prendere anche in prova uno di quei ragazzi poi fu notato da altri osservatori cioè un fenomeno i primi a farsi avanti furono quelli della Fiorentina Fiorentina coi tifosi che paccano il culo alle tipe no Madrid no ciao a tutti vado a mangiare le pannelle no ok ciao quelli della Fiorentina gli fecero presto un contratto e dai su avanti questi della Fiorentina eh proprio c'è il primo a vestire una maglia di un club italiano trequartista ed esterno rapido del dribbling Song Kyuk fu infatti messo sotto un contratto dai Viola Prade e l'allenatore della primavera Guidi stravedevano per lui qualche presenza a fine campionato 2015-2016 nella formazione dei giovani Fiorentini poi venne il secondo problema come dici chiesi al telefono a Giampaolo era mattina presto mi stavo vestendo per andare in senato non mi sembrava di aver capito bene non ci credo e chi l'ha voluto il PD rispose lui proprio loro assurdo sembra incredibile ma fu fatta addirittura un'interrogazione parlamentare da parte di alcuni rappresentanti del partito democratico sulla storia dei giocatori coreani qualcuno di loro sosteneva che i loro stipendi sarebbero stati usati dai governanti della Corea del Nord per costruire una bomba atomica ridicolo ma come si può pensare a un'idiozia del genere sbottai alla stampa una volta arrivata in senato prendono poco più di 1000 euro al mese e devono anche mantenersi qui mi dite come fanno a mandare soldi per la bomba e a Giunzi e a sollevare questa assurdità sono proprio gli ex comunisti sta storia è tutta una follia anche i giornalisti si misero a ridere però gli effetti di questa diceria non tornarono ad arrivare e proprio cioè ne fu vittima il DS della Fiorentina Pantaleo Corvino decise di annullare il contratto di qui è sorta una battaglia legale che si è conclusa con uno svincolo e il ritorno del ragazzo in Umbria la società Viola sporsò anche 60.000 euro di penale Alcorciano che ne detestava i diritti che ne deteneva i diritti gratis lo dico sempre è morto da un pezzo cosa? e invece fortunatamente uscì fuori il presidente del CAI a Riccellino che se ne fregò di interrogazioni e paure nucleari e prese Hann facendo un affare infatti come tutti sanno ha già fatto parecchi gol tanto che dopo quando aveva dimostrato le sue qualità anche la mia Juve si è fatta avanti per averlo anche Choe è stato poi testerato dal Perugia i loro cartellini sono schizzati in alto per Hann adesso ci vogliono quasi 20 milioni di euro ora si che ci possono fare una bella bomba scherzo ok pausa a che punto siamo questa è pagina 31 rimangono circa sessantina di pagine sì no sì il pilogo forse lo salto sono 98 pagine siamo alla trentunesima 98 meno 31 dai raga 97 67 pagine ok qua allora passiamo al prossimo libro allora alcuni non li ho ancora letti ah sì passiamo da questo passiamo da quello un po' più storico va allora questo qua è un libro scritto da Giulio Andreotti governare con la crisi praticamente parla di tutti i governi fino al 91 in particolare come sono caduti io mi sono segnato quello là Fanfani non si lasse disarcionare quello il mi sono segnato perché mi serviva per la tesi ehm il passaggio da Fanfani due mi pare a Tambroni uno che è molto interessante vabbè no in realtà ci stava però arriva Forlani tanta bella roba ma lo leggo con calma cioè non ho letto tutto però è un bel libro approvo comunque raga mi sa che faccio una pausa che devo cagare muto il microfono e anzi prima scrivo in chat vai mi muto un po' un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti. 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 Eccomi, sono tornato. Raga, sveglia. Dai che si rilegge. Ve voglio vedere carichi su carichissimi. Ve voglio attivi in chat. Perché se no qua, secondo me, arriviamo fino al capitolo 6 e poi chiudiamo. C'è un'altra parte. C'è un'altra parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se c'è un'altra parte. che c'è un'altra parte. Che c'è un'altra parte. A Kim il calcio. A Kim il calcio. E' un'altra parte. Grazie a tutti. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Per istì? Mi ha risposto. Ovvero, lei chi è? Giustamente perché non mi ero presentato. Però questa incursione fuori dal protocollo e la lingua tedesca che probabilmente gli ricordava la sua gioventù lo indusero a sorridere istintivamente. Razzi il senatore, Antonio Razzi, risposi, un po' alla James Bond. Ah, senatore, che piacere incontrarla. Ho sentito molte cose su di lei, fece lui. Mentre sempre in tedesco, ma mi sa che è meglio solo traduco in italiano, comunque lui ruppe le righe e mi si fecero incontro, seguito a stento dalle guardie del corpo che non si attendevano un'uscita dagli schemi del genere. Allora, come si trova da noi? Chiese. Bene, benissimo, sempre meglio, anche grazie a lei e a tutto ciò che sta facendo per la sua nazione, gli dissi. Lui annui, molto sobrio. E dopo, essendo tra maschi, di cosa dovevamo parlare? Di politica? No, avrebbe detto Frassica. Ah, indietro tutta. Di scenari internazionali? No, di calcio, logico. Maresciallo, dissi. Perché quello è il suo titolo originale? Volevo anche complimentarmi per come sta gestendo la federazione calcistica. Le nostre squadre ne stanno beneficiando. E poi, aggiungi quasi senza volerlo, sono tutti bravi ragazzi, educati per bene e rispettosi. Quella frase, detta un po' così, poteva passare per un'osservazione di maniera. Invece io la dissi convinto, perché per me, che sono stato abituato da giovane a portare rispetto per il paese straniero che mi ospitava, Quelli erano e sono valori reali, importantissimi anche lui, come poter contrastare, rimase colpito. Soprattutto quello che mi dice adesso è molto rilevante per me. Bene, bene. Ora, purtroppo gli impegni mi chiamano. Sono sicuro che ci incontreremo di nuovo per parlare di questo e altro. Fu davvero un colpo di fumo inepratonico tra di noi, ci siamo intesi subito. Mi chiamano. Raga, su, sveglia, dove siete finiti? Qua se non entra nessuno, devo smettere. Sicuro che ci incontreremo di nuovo per parlare di questo e altro. Fu davvero un colpo di fumo inepratonico tra di noi, ci siamo intesi subito. È proprio un bravo giovane Kim. Un giovanotto piuttosto sveglio. Lo definì Donald Trump una volta. Mi sa che il presidentissimo USA aveva ragione. E poi è un pacioccone. Una volta in Italia ho usato con lui una metafora che fece scandalo. Sembra un vecchio democristiano. Uno di quei dirigenti di una volta che vogliono accontentare tutti. Scandalo e clamore. Ma come? Diceva la stampa. Stai paragonando l'ultimo dei comunisti radicali? Il capo di un regime rosso a un pacioso e traffichino toroteo degli anni Sessanta? Bestemmia. Ma io volevo segnalarne il carattere e indicare una cosa storica. Cioè che si fosse impegnato alla ricostruzione del paese. Come fecero efficacemente i nostri democratici cristiani di un tempo. Nessuno mi capì. Io invece penso che le frasi sorprendenti sono quelle che più spesso coglono il segno. Kim è un ragazzo innanzitutto. Un ragazzo di 30 anni che si è trovato sulla testa una responsabilità mostruosa. Stare nel bel mezzo degli equilibri della pace del mondo. E io dico che se l'è cavata egregiamente. Il suo paese lo ha cambiato sul serio. Ha fatto tutto ciò che poteva e anche di più. Uno dice che deve metterlo sulla via della democrazia. È una parola. La nazione è abituata da decenni a stare in condizioni di chiusura. Per via della strada dei maggiori paesi stranieri. Guardatela adesso. A paragone con 5 anni fa. A paragone con 50 anni fa e non la riconoscereste. Sono sicuro che sta facendo ogni cosa. È nel suo potere per ammodernarla e aprirla al resto del pianeta. Con tempi che a noi comuni cittadini non sono conoscibili. Con strategie che non è dato sapere. Che magari passano anche per una frase provocatoria. O per un tweet che sembra minaccioso. Invece lui è proprio diverso da come si può intuire da un tweet. Più che un tweet con lui andrebbero meglio le frasi storiche. Una cosa come alla lunga o alla corta caro Kim pure tu devi morire. Campa bene oggi perché domani non saprai se puoi mangiare o bere. E sto sicuro che lui come l'ho conosciuto scoppierebbe a ridere anche della mia saggezza abruzzese. A me in Corea mi stanno sempre a sentire quando parlo così. Quando parlo di cose semplici. Secondo me c'è un... Ah ecco qua è arrivato qualcuno. Ciao sono appena arrivato. Naturalmente non so niente di quel che hai letto prima. Da 1 a 10. Quanto è assurdo il libro? Troppo. Questo è il libro. Siamo arrivati al capitolo dove parlo dell'incontro di Razzi con Kim Jong-un. Stavano a una cena e lui si rivolge parlando in tedesco. Perché Kim Jong-un è cresciuto a Berna. Ha fatto l'università là. Quindi si sono accordati subito. Hanno parlato un po' di calcio. C'è tutto un capitolo riguardo il calcio. Perché lui è italiano. Gli piace la figa. Gli piacciono gli spaghetti. E gli piace il calcio. Noi siamo molto italiani. Perché questa è la mia prima live in italiano. Quindi sto stentando la mia italianità. Sto facendo cose del tipo. Oh noi siamo italiani che schifo gli stranieri. A casa li aiutiamo a casa loro. Chiaro? Questo è tutto quello che devi sapere. Questo è tutto quello che ti sei perso nelle ultime due ore. Va bene Drangot? Dai. Vado avanti. Allora. Kim lo ripeto. È un giovane. E piace ai giovani del suo paese. L'ho visto muoversi a un congresso della gioventù nordcoreana. E lui si fermava con tutti. E i ragazzi lo cercavano con lo sguardo. Si vede che riponeva tante speranze in lui. Riponevano tante speranze in lui. Ottimo. Ok. Mi sto stancando. Perché sto leggendo. Ho letto 33 pagine di fila. Senza. Stamme zitto neanche un secondo. Merda. Perché non mandate una vostra delegazione di atleti? Chiese al presidente del presidium. Lui strabuzzò gli occhi. Poi sorrise. Solo a te può venire un'idea del genere Antonio. Magari. Lui la trovava una cosa bislacca. A me invece pareva naturale. Ma come? Ci stanno i vostri fratelli che organizzano uno dei più grandi eventi sportivi. E voi ve ne state da questa parte a un niente di distanza a guardare? Io non ho studiato molto. La cosa è risaputa. Ma quel tanto per sapere che le olimpiadi furono create per dare tregua alle città greche che facevano una guerra. Lo sport è anche una sublimazione di istinti bellici. Ci dice Giampaolo. Che invece ha studiato eccome. Oltre a essere una celebrazione delle abilità che l'uomo ha dovuto mettere in campo per sopravvivere. La corsa si deve alla necessità di rincorrere le prede o scappare dai predatori. Il tiro del peso. Il lancio del disco e del giavellotto per ricordare quando dovevamo cacciare da lontano. Il nuoto mentre occorreva saper muoversi in acqua per pescare o dirigersi verso alcuni luoghi. Mentre tutte le discipline legate alla lotta, da quella greco-romana alla spada, sono in effetti il superamento della guerra. Quando parla così resto incantato. Il succo lo capisce anche un uomo semplice come me. Lo sforte si fa per la pace. E quale migliore occasione dei giochi invernali per dimostrare al mondo la volontà di smetterla di litigare? Vabbè, come fu e come non fu, sta di fatto che questa idea tanto assurda divenne realtà. A Pyeongchang nel 2017 hanno sfilato gli atleti norcoreani accanto a quelli del sud. Una scena emozionante con questi ragazzi che si salutavano commossi davanti alle telecamere di tutto il mondo e poi si univano per marciare insieme. Poi si andò oltre. Si decise di formare una squadra congiunta di hockey femminile. Non poteva che essere così. Con le donne si ragiona sempre meglio. Non sono portate per fare la guerra ma per riunire. Quanto a me non so quanta influenza ho avuto io in questa decisione. Ma mi piace pensare che un piccolo tarlo nell'orecchio ce l'ho abbia messo. A quegli adorabili zucconi. Ormai io mi sento legato a quella terra. Già l'ho detto. Persino in senso anagrafico. Alle celebrazioni dei 70 anni della nascita della Repubblica, in quel giorno caldissimo di cui parlo all'inizio, alla fine della cerimonia, quando andai a congratularmi con Kim, feci una battuta. Caro Kim, io faccio gli auguri a te, ma tu poi devi farli a me, dissi. E perché, senatore, chiese lui, che tutto si aspettava, tranne una battuta del genere. Aveva avuto solo frasi formali, auguri drittuali e la mia richiesta sicuro la sorprese. Perché anch'io sono nato 70 anni fa. Davvero? Allora auguri, disse lui. Sì, e credo che un poco centro anch'io. Guarda i dati nel 1948. Nasceva la nostra Costituzione. Sempre quest'anno la vostra Repubblica. Ho portato bene, insomma. Risate e pacche sulle spalle. Boh, io l'ho detto così, per ridere. Ma un poco penso di stare portando fortuna a quel paese. Da quando lo frequento è tutto migliorato. E qualche volta sembra che le mie previsioni, anche quelle più azzardate, si siano avverate. Dopo la storia delle Olimpiadi, ad esempio, c'è stato l'incontro tra i presidenti delle due Coree sul 38esimo parallelo. Il 2018 è stato un anno unico. Kim a gennaio dichiarò di voler incontrare Moon Jae-in, che però era inizialmente restio per via di alcune resistenze di Kim sulla politica nucleare. Tuttavia, in seguito all'inizio della denuclearizzazione della parte del nord, il 27 aprile Kim e Moon si sono davvero incontrati al villaggio di Pan Moon-yong, al confine tra i due paesi, nella zona denuclearizzata sudcoreana. Kim Jong-un è diventato così il primo leader nordcoreano a entrare in Corea del Sud, dopo 65 anni dalla fine della guerra in Corea. Eccomi, il kebab era buonissimo. Maledetto! A me tutti dicono che sono troppo ottimista, che non vedo neanche mezzo pieno il bicchiere, ma costantemente colmo, fino all'orlo, ma in questi ultimi anni, a così stretto contatto con quel popolo, ho capito che le cose cambiano sempre, e spesso è meglio. Lo dicono tutti, da Mercedes Sosa, tutto cambia, a Neffa, cambierà, da Rocky Balboa, se voi potete cambiare, se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare, dite la verità, che cultura varia che ho. Al vecchio senatore Razzi, se non è oggi sarà domani, ma cambierà. Anche perché, e qui immaginate come lo stia facendo, Crozza Style, subito dopo è successa una cosa ancora più raccambolesca, che adesso sembra che mi voglio vantare, ma non è così. E pura verità, pure avevo auspicato. Accade che Kimi mi scrisse una lettera in cui annunciava che quello era l'ultimo esperimento che faceva, e mi invitava a dirlo alla stampa occidentale. Ah, ok. Capitolo 5, un incontro impossibile. Quante pagine è lungo sto qua? Eh, sono tutti più e meno corti questi capitoli, queste pagine. Razzi, sarebbe il perfetto vicino di casa della nonna quando le vai a trovare al paesello. Decisamente non dovrebbe essere senatore. Eh. 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 Che dobbiamo fare? Raga, è faticosissimo. Se io sto facendo sta cosa per i 3.000 iscritti, che cazzo farò quando arriverò a 4.000, 10.000? Cioè, mi devo leggere tutto il... Devo leggere... No, basta, forse non mi leggo granché. Vabbè, prossimo libro. Questo qua l'ho usato per fare un po' di ricerche per Fini, appunto. Questo qua, il libro di Gianfranco Fini. Io, Berlusconi e la destra tradita. Il ventennio. Questo libro è un po' vecchio, però diciamo che è carino. E mette molta luce su, appunto, la nascita dell'alleanza nazionale, Fini come personaggio. Parla anche un poco di Meloni. Eh, ma pochissimo. Poco, poco. Devo dire che non è un... Cioè, non è grandioso, però, vabbè, ci sta. A 10.000 vai all'incontro privato da Zikim e fai un vlog, assolutamente. In realtà io avevo questa idea pazza un giorno di fare proprio tipo un vlog in cui andavo a Villabanda a casa di... a casa di Licio Gelli. Sarebbe molto basato. Vabbè, comunque sì, questo è... Il libro di Fini. E penso che sì, è molto buono per... Non è molto attuale, però secondo me, dato che questo è l'ultimo libro scritto da Fini durante la sua attività politica, cioè il 2015 ormai era già pensionato, penso che sia un buon modo per mettere fine alla sua... alla sua vita politica, se tutto sommato, sì, è un bel libro. che ha, perché mette molta luce su avvenimenti comunque della nostra storia molto recente. Ok. Ok, ci siamo. Allora, capitolo 5. All'inizio si vedeva solo il patio, bianco e il tappeto rosso, sullo sfondo le bandiere dei due paesi alternate, scosse leggermente da un venticello. l'inquadratura ha ripreso per decine di minuti sempre la stessa scena, muta, vuota, dove non agiva nessuno. A un certo punto pareva che quella cosa storica non sarebbe più avvenuta. Troppo bello, per essere vero. Sarà nato un intralcio. Fu il pensiero di tutti quelli che erano là, incollati allo schermo, dove continuava a non accadere niente. Anche io ero tra questi. Anche se all'intralcio non pensavo. Non molti del nostro paese, nell'occidente in genere, data l'ora. Io non potevo perdermelo, mi ero svegliato apposta prestissimo. Saranno state le due e mezza del mattino. Sentivo che quel momento era un po' mio. La cosa doveva avvenire intorno alle tre, ma mi sono anticipato, stando attento a non svegliare mia moglie. Eppure, con mia grande sorpresa, anche lei ha voluto assistere. Allora ci siamo fatti un caffè, scambiati un sorriso, perché spavrevamo che stavamo per assistere a un evento storico e abbiamo acceso la tv su Rai News 24. Ma niente, per minuti, quel piccolo cortile con le bandiere sullo sfondo è rimasto deserto. Noi due ci scambiavamo occhiate, via via più perplesse. Io cercavo di rasserenare Maria Gesùs. Vedrai, ora arrivano. Gli ambasciatori staranno controllando che tutto sia a posto. E poi, ho aggiunto, guarda quanti giornalisti, si devono prendere tutte le misure, anche quelle di sicurezza, perché tutto vada per il meglio. Una sola cosa mi dispiaceva, ci sarei voluto essere, là di persona, ad assistere a uno degli episodi più importanti della recente storia contemporanea. In fondo pensavo, me lo meritavo, però c'erano alcune cose che me lo impedivano, un po' di cose che avevo da sbrigare in Italia, con il nuovo governo che si stava formando proprio in quei giorni. E poi la velocità con cui era stato organizzato tutto, tipo blitz. ma alla fine la mia presenza non era indispensabile, solo curiosità la mia. L'importante è che quella cosa avvenisse. E proprio mentre fantasticavo su questo, ecco che alle due entrate, alle due entrate dell'ingresso dell'hotel Cappella di Sentosa, un'isola a largo di Singapore, si notò qualcosa, come un movimento di apiti, e dico io, di energie, due luci, diverse ma in direzione simile, stavano per accendere la scena, a entrare nel campo dei fotografi accorsi da tutto il mondo, un istante prima del suo interlocutore fu Kim Jong-un, dalla sinistra, e come poteva essere altrimenti. Donald Trump da destra, però fu il primo ad alzare la mano, mentre i due si avvicinavano al centro. Il presidente americano lo fissava, mentre faceva il gesto di saluto. Kim no, sorrideva, e verso un punto indefinito, posto tra l'altro e gli obiettivi, dall'altro e gli obiettivi delle telecamere, dall'alto. Molto manieroso. Fu però un momento caloroso, la sensazione che ebbero tutti, e che quei due, a occhio, si piacevano. E questo a me parve quasi surreale, nonostante, lo ripeto, lo avessi desiderato tanto. Lo avevo anche detto più volte a Kim, e ripetuto addirittura, in una lettera a Trump, una missiva di cui conservo originale, la scritta Giampaolo. Io in inglese conosco quattro parole in croce. Le lingue che frequento sono il tedesco e lo spagnolo, per motivi di lavoro e di cuore. L'italiano fate un po' voi, però il succo è che avevo pensato di mandargliela proprio per favorire un avvicinamento. Mi sono anche reso disponibile alla mediazione. Io ho detto che, qualora avesse ritenuto, sarei andato a Pyongyang a fare da tramite, però io ho specificato che avrebbe dovuto essere lui a indicarmi cosa riferire a Kim Jong-un. Non posso mica inventarmi le cose. Tra certi personaggi di questo potere, poi, è meglio essere cauti. Non si è mai, c'è un fraintendimento, ed ecco che si va a finire nei guai. Ed ecco, invece, quasi per magia, che l'incontro degli incontri tra il presidente della Corea del Nord e quello degli Stati Uniti avveniva per la prima volta nella storia, ma lo stesso mi pareva impossibile ciò che stavo vedendo con i miei occhi, assurdo dopo quello che era successo tra loro. Wow. Quando Trump era stato eletto nel 2016, da subito si era dichiarato oppositore della politica obamiana, di pazienza strategica. Aveva una brutta fama, coi suoi modi spicci e midacciosi di tutto, anche nella politica interna. Tutti si aspettavano che sarebbe stato coerente nelle relazioni con i paesi difficili, eppure sulle prime stupì tutti, pur mantenendo una forte posizione critica. Trump si dichiarò disponibile al dialogo, decidendosi pronto a mangiare un hamburger con Kim e definendolo un ragazzo sveglio, come riportato prima e a risposta. Diversi siti coreani lo definirono un politico saggio. Poi le cose precipitarono. Successe che la Corea del Nord nel 2017 continuò i suoi sperimenti nucleari, arrivando a lanciare nel luglio il suo primo missile balistico intercontinentale. La risposta di Trump fu molto dura. Disse che, continuando in questo modo, Kim avrebbe dovuto affrontare fuoco e fiamme come il mondo non aveva mai visto. E queste dichiarazioni il Nord Corea annunciò che il prossimo test missilistico si sarebbe tenuto vicino al territorio americano di Guam. Il 3 settembre il Nord Corea testò la sua prima bomba a idrogeno, incorrendo in nuove sanzioni e tornando dopo nove anni nella lista dei paesi promotori del terrorismo. Ma chi cazzo è che mi scrive che mi caga il cazzo? Il 28 novembre venne lanciato un nuovo missile capace di raggiungere gli Stati Uniti che venne presentato da Kim Jong-un come l'arma che poneva la sua nazione in una condizione di forza. L'ONU reagì con ulteriori sanzioni e Trump iniziò a chiamare Kim con il nomignolo di Rocketman, l'uomo razzo, citando l'omonimo brano di Elton John. Poi l'escalation. Ad inizio... Ad inizio del 2018, Kim Jong-un, in un suo discorso, aveva annunciato che il programma nucleare era concluso, affermando il pulsante nucleare è sulla mia scrivania. Al che Trump, che è sempre beffardo e ironico, rispose, anch'io un pulsante nucleare è sulla mia scrivania, ma il mio è più grande e funziona. Insomma, pareva che le cose non fossero più recuperabili e che sarebbero arrivate alle armi, trascinando con loro tutto il mondo verso la rovina della guerra. Wow. E invece il 12 giugno del 2018, eccoli là, che si danno la mano e si trattano come due vecchi amici. Uè, paesà, come stai? Sembra che stessero dicendo. Anch'io rimase stupiso. Porca vacca, che è successo? Che avevo... Cioè, è successo cosa avevo previsto. Ma come? Disse a Maria Gesù. Prima si volevano ammazzare, si minacciavano di qualsiasi cosa. Con la storia del bottone, pareva stessero facendo a chi ce l'aveva più grosso. Il bottone, eh? E poi mo' fanno tutti gli amiconi. Potenza della pace, dell'incontro e dell'umanità. E invece, quando era successo prima, quanto era successo prima, era esattamente il contrario. Equivoci, provocazioni, incomprensioni. Magari un tweet di troppo, un tweet di tutti che saltiamo. Sai che bello? Che poi io, a sta storia dei tweet, mica credo molto. Ho esempi anche personali per dire, che spesso tutti... Barod. Stanchezza, raga. La stanchezza. La stanchezza. Voi ci siete, eh? Battete un colpo. Da un lato, Kim ha garantito l'avvio del processo di denuclearizzazione, che è un processo già iniziato che si stava muovendo rapidamente. Dall'altro, Trump ha annunciato la sospensione delle manovre congiunte tra americani e sudcoreani al confine, definite troppo costose e non più vitali in fase di disgelo. Abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle, abbiamo firmato un documento fondamentale, il mondo vedrà un importante cambiamento, ha detto poi Kim Jong-un poco prima della firma del documento congiunto con Trump. Vorrei esprimere gratitudine al presidente Trump per aver fatto accadere questo incontro. Ha aggiunto, la nostra relazione con la Corea del Nord sarà qualcosa di molto diverso rispetto al passato. Abbiamo sviluppato un legame molto speciale, ha dichiarato Trump firmando il documento. Abbiamo trascorso molto tempo insieme, è andato molto meglio di quello che si potesse prevedere e questo porterà tanto di più. È un onore essere con il presidente Kim, ha aggiunto prima di stringergli di nuovo la mano e regalargli una calorosa pacca sulla spalla. Inviterò Kim alla Casa Bianca, ha detto Trump al termine del summit. Prima di concludere, ora posso dire di conoscerlo abbastanza bene. Insomma, risultati pazzeschi. A conferma di ciò che sostengo sempre. Se non parli a quattro occhi con una persona non saprai mai cosa è l'altro. Pensate, si è passati da un momento terribile quelle frasi sui bottoni che allodevano alla bomba, quei momenti di cui se ne dicevano di tutti i colori. A questo finale tra luce e vino, meno male. Sembrava che stessimo sull'orlo di una guerra nucleare sarebbe stata una catastrofe per l'umanità. La bomba se scoppia uccide tutti, così come la pace interessa ad ogni singolo abitante del pianeta. Perciò dopo mi sono speso per un'idea. Pure questa sulle prime ritenute folli. Perché non gli danno il Nobel per la pace? Ho detto il giorno dopo, parlando con Giampaolo. Eravamo al bar. Io ero ancora un po' assonato dalla notte che poi avevo trascorso in bianco, tanto che ero coinvolto. Che? Disse Giampaolo, sputacchiando il caffè. Ma sì, può essere un'idea. Il Nobel a chi? Chiese lui. Come a chi? A Kim e a Trump. Lui scossa il capo sorridendo forte. Tu hai sempre pensato e originali, Antonio. Però pensaci, non è possibile. A Kim Jong-un, dopo tutto quello che ha detto di lui, e perché no, riflettuto? Lui è stato il primo capo del Nord Corea a incontrare il presidente degli USA. Dopo 60 anni di insulti e accuse, stanotte si sono abbracciati. Questo è vero, disse lui. Ma Trump, che ha la fama di militarista, e tanto militarista che in quasi due anni che governa non ha mai fatto una guerra. L'altro, Obama, ha avuto il Nobel per la pace dopo tre mesi che era entrato nella Casa Bianca. Un premio preventivo e poco lungibilante perché lui le guerre le ha fatte come? Beh, in effetti, si è dovuto arrendere Giampaolo. Tutti i presidenti americani, ho continuato, hanno fatto guerra e scaricato bombe. Trump, che tutti hanno criticato da quando lo hanno eletto, anche gli stessi americani e l'unico che non ne ha fatte e addirittura ora sta facendo fare pace alle due Coree. Che volete di più? Questa è attività di pace vera. Comunque poi, non è invecchiato bene sto libro. Quanto cazzo è uscito? È il 2018? Quanto cazzo è uscito sto libro? Oh, forza! È a me la data. Eh, ma raga, dov'è? Ah no, mi sa 2019. A me per questo spiace quando si pensa banalmente. A volte le cose sono più semplici di quelli che appaiono. Un Nobel per la pace a quei due e il mondo vivrà più sereno. Ma se lo dico io, lo dice un ignorante, lo dice quello di amico mio, fateli cazzi tua. Però se sia vera, voglio che qualcuno lo sappia, che l'avevo previsto. Perciò chiamai i giornali. Razzi propone un Nobel per la pace a Trump e a Kim Jong-un. Titolarono nei giorni dopo con un po' di sarcasmo. Lo so riconoscere. Basta. L'importante è averlo detto. Solo quando dico le cose come stanno mi sento bene. A costo di ripassare per scemo, li sentivo i cronisti ridacchiare e dire Razzi, fa fare la pace al mondo, si figuriamoci. Intanto fino ad adesso si è avverato ciò che avevo previsto e che in qualche modo ha contribuito a mettere in moto. Perché io parlo in faccia e parlo a tutti allo stesso modo. Mia moglie, i miei amici e anche Giampaolo mi sono testimoni. Non mi interessa il ruolo di chi mi sta davanti. Tanto sono sicuro del mio. Sono convinto di essere gentile, simpatica ed educato. Anche se sto parlando con il re. Anche se sto parlando con il presidente del mondo. Anche se, per dire, parlo con il papa. Da Francesco. Quel prossimo capitolo parla con papa Francesco. Qua raga vi vedo un po' non vi vedo molto coinvolti. Sapete, ci sta un motivo per cui le lezioni universitarie durano massimo due ore perché a un certo punto la gente non vuole più ascoltare. Quindi, secondo me, sta cosa che devo leggere tutto il libro insieme, magari io posso anche farla, però secondo voi io non vi vedo attivi. Quindi, secondo me, a sto punto, dividiamo la live in due. andiamo a fare così. Ora che l'internet più o meno vi va, mi va, possiamo fare veramente così e facciamo una parte due e magari anche una parte tre. Dato che ho letto cinque capitoli, sono quattordici, direi che in tre parti riusciamo a farlo. Che dite? Dai, vi voglio attivi, raga. Vi voglio belli svegli. Dai, ci sono due persone che guardano. Forza. Queste due persone voglio che vengano e mi dicano Nico, va bene? Facciamo la parte due un'altra volta. Su. Ok, ho ricevuto un like. Devo prenderlo per un sì. Dai. Ok, vi faccio vedere l'uccello. Alcino. Esci. Dai, su. Aspetta, non ho qua, no. Dai, esci. E dai. Vuoi sempre uscire, vuoi sempre coprire il cazzo. Oggi non esci. Oggi non vuole uscire. Io ho lasciato la gabbia aperta, quindi prima o poi uscirà. Va bene, raga. Oh, oh, oh. Hello. Ok, raga. Direi che abbiamo finito. Va bene. Ciao a tutti. Che facciamo, Vittorio? Facciamo una parte due? Cioè, nel senso, adesso siamo un po' stanchi. Cioè, sono un po' stanco. Sono stanco. Cioè, in realtà sono tutti un po' stanchi. Non lo rispondete. Siamo arrivati a un terzo del libro. La prossima volta, facciamo un attimo, facciamo una, la prossima volta, facciamo la parte due, magari anche parte tre, e finiamo il libro. Che dite? Va bene. Facciamo un'altra volta. Ok, raga. A presto.